Il tempo profondo a cercare Piontek, lascia ribalzare il pallone Maximovic, Piontek, Piontek, primo gol in maglia Milan, 10 minuti del primo tempo e fanno 30 con i minuti giocati in campionato, 30 minuti sono bastati a Schistov Piontek per lasciare il segno in maglia rosso-nera, Milan 1, Napoli 0, l'esultanza della squadra di Gattuso, ma c'è stata un'incertezza clamorosa di Maximovic scavalcato dal pallone, l'intuizione di Piontek.